Sarà il Grand Hotel Michelacci di Gabicemara ad ospitare il prossimo 22 novembre per il secondo anno consecutivo la 33esima edizione del premio Beniamino Gigli dedicato ai marchigiani dell'anno. Un premio istituito dall'Accademia di Scienze e Cultura Marchigiana che dagli anni 90 in poi ha riconosciuto il valore di 461 cittadini della nostra regione distintisi per i loro meriti nei settori di arte, cultura, imprenditoria, politica, volontariato, sport. Questo premio nacque 33 anni fa a Senigallia e lo riportiamo, lo abbiamo riportato per la 33esima volta in un paese di mare, Gabicemare. È un paese meraviglioso ed era giusto che venisse qua. Cioè il premio è semplicemente quello di ricevere gratitudine dagli marchigiani attraverso come un ambasciatore che porta nel mondo e gli dice o dirà io sono ambasciatore delle Marche perché sono marchigiano dell'anno fatto da questa Accademia. Ad essere premiati il 22 novembre saranno Paolo Notari, Giovanna Mulazzani, Mirko Bilò, Silvana Canestrari, Rossano Bartoli, Lino Secchi, Gino Sabatini, Rossana Berardi, Enzo Giancamilli, Guido Castelli e Raimondo Porcelli. Saranno tante le persone illustri che parteciperanno alla serata cerimoniale di consegna del premio e quindi di conseguenza è sempre una grande opportunità per trasmettere il messaggio che Gabicemare è una città accogliente tutto l'anno. E grazie all'imprenditoria Gabicese, in questo caso alla famiglia Michelacci che si rende sempre disponibile per offrire una visibilità a tutto il territorio.